Io tutti e cento insieme è un po' mocello. È entrato anche Francesco Guidulli, vedo qui in rappresentanza di Solidus, grazie mille Francesco per essere qui. Grazie a te Concetta per avermi invitato in rappresentanza dei 65.000 professionisti dell'Università che ho l'onore di rappresentare. Un saluto ai tanti, vedo, ospiti che sono collegati con noi in questo momento. Sono contento quindi di far parte di questa compagine, ho letto velocemente il lavoro che hai fatto, ti faccio i complimenti, ce li siamo già fatti. E' veramente interessante che in un momento così difficile si abbia la voglia di dare il proprio contributo a tutti i professionisti con delle cose così importanti. E certamente la colazione, il breakfast, come lo vogliamo chiamare, è uno degli argomenti importanti che proprio in questo momento epocale riveste un'importanza straordinaria. Proprio perché ci dà la possibilità un po' a tutti, imprenditori e anche professionisti, di rimettersi in gioco così come è scritto nelle prime righe. E soprattutto un po' da parte di tutti quanti a cercare di dare un contributo tangibile al nostro comparto, a fare in modo che si possa ritornare ad essere competitivi un po' ovunque, e ovviamente fare come si deve il nostro lavoro. Io non voglio togliervi altro tempo, sono in movimento anch'io, quindi ho trovato una posizione di fortuna. Infatti non sono dentro un giardino, ma è un grande poster dietro di me, quindi vi lascio al vostro lavoro. Saluto Luciano Manunta, vicepresidente di Solidus e presidente di Aira, meno la persona che in questo momento vedo, che conosco. Quindi a tutti voi buon lavoro, buona giornata e mi raccomando cerchiamo ognuno di noi di fare la nostra parte per far sì che il nostro settore sia sempre in alto e possa crescere nell'importanza, visto che in questo momento abbiamo capito e speriamo anche gli altri abbiano capito quanto sia importante il comparto dell'accoglienza e della ricettività e del settore turismo in generale. Grazie a tutti, buon lavoro e a più tardi. Grazie mille Francesco per essere intervenuto.